Ciao creatura Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai A-S-M-A Creatura mi è venuta voglia di fare un mukbang un po' whispering, un po' soft spoken E quindi ho detto quale giornata migliore se non una giornata di pioggia, di pioggia per fare un bel mukbang Questo video non so quando lo vedrai, forse a fine settembre, forse ottobre, chi lo sa Comunque, o forse non lo vedrai mai Comunque ci sono stati tipo 42 gradi fino a ieri Mentre oggi piove e si sta davvero decisamente bene perché è giusto che inizi ad esserci un po' più di freschetto Dato che siamo a settembre e l'autunno mi piace In realtà mi piacciono tutte le stagioni Ma è bello proprio il poterle vivere tutte Senza saltarne neanche una Cosa che però spesso non c'è la sfumatura di andare dal caldo al fresco e poi freddo Ma si passa da 42 gradi al cappotto e quello non mi piace Mi piace l'ottunno perché è una via di mezzo, in teoria si spera che sia ancora così Comunque, per pranzo mi sono fatta, tu lo vedrai a cena, però questo è il mio pranzo Mi sono fatta delle patate arroste Si, so che sono tipo quelle fritte di forma, ma io le ho fatte arroste Con il rosmarino che ho personalmente raccolto, seccato e triturato Triturato, mi adoro Poi Spinaci con formaggio e una fetta di pane tostata in padella Con del patate di olive greche Adoro Sai che io ero mega fissata con le olive greche Ho trovato anche il patate ed è buonissimo Pensavo fossero diventate fredde, invece no Sono ancora tipidine Non mi inquadro la faccia perché non ho voglia di truccarmi, sì È vero Ammetto, non ho voglia Poi dopo devo andare in posta E come volevo truccarmi Ho detto No Sì, avrei potuto anche struccarmi in realtà Però Non lo so E poi A me piacciono tanto i video Mugment dove si vede di più il cibo che la persona in sé Bella scusa, vero? Spinoci, braccio di ferro a prova Se te lo stai chiedendo Sì, è un piatto da prima portata Ma fact system Ho messo qua perché mi piaceva di più Cioè io non seguo molto le regole Dovresti saperlo Sì, è un piatto di più sono di molto buoni gli spinozzi oggi è esattamente il 16 settembre nel passato nel quale sto girando questo video non so quando uscirò perché la maggior parte dei miei video sono programmati quindi li faccio in una data X e poi vi escono in un'altra data X nel futuro il punto non è questo il punto è che sto già ideando e realizzando i video che usciranno per ottobre perché? perché mi piace molto il periodo di Halloween e quindi voglio portarvi per i contenuti originali come sempre cioè la divinità numero uno sono io quindi la divinità dell'SMR quindi devo portarti cose originali dal mio punto di vista quindi oggi ho già girato un video che però che è una videoricetta ma non spoilerò altro perché mi piacerebbe portarti allora sarebbero quattro video al mese no? perché uno ogni settimana e quelli voglio portare certi però magari se riesco a farne di più mi piacerebbe portarne di più anche perché ho tante idee però come al solito ho tante idee e poi non riesco a realizzarle perché non lo so perché ma succede diciamo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo ma succede Devo masticare bene gli spinaci perché da piccola mi ci soffogavo e quindi mi è rimasto il trauma però mi piacciono e non voglio rinunciarci per la paura e quindi sto masticando tantissimo Alla prossima E tu mangi gli spinaci, ti piacciono? Mi sembra una di quelle verdure che non va più tanto di moda, ce ne parlava di più una volta, nelle ricette non vedo più tante ricette con gli spinaci, ho sbaglio, a parte tipo i ravioli ripieni con gli spinaci e la ricotta, per il resto, che io sappia, non se ne vede tante ricette in giro proposte anche su Instagram, così si vede che gli spinaci non sono instagrammabili, probabilmente. Mi sembra poco flusso tutto il palo. acqua Eva acqua Eva in tazza grande beh ti piace la frase se mi segui su Instagram questa foto questa tazza l'hai già vista come sempre in tutti i miei video smr suono le campane perchè non sono neanche un po' presenti nel mio paese cioè praticamente sono più campanile e campane che persone sono neanche un po' Alla prossima non so se ti piace l'idea che a ottobre vorrei portare i contenuti tutti a tema halloween spero che ti vada bene persone sotto la mia finestra che urlano non so se ti vada bene non so se ti vada bene non so se ti vada bene come sempre volevo dirti un sacco di cose e poi mi sono persa a mangiare però è un mukbang quindi ci sta metti un cucciolo non so se ci vada bene se ti vada bene ecco beh sono contenta perché ho finito tutto il piatto sono sempre molto orgogliosa di me quando riempio tanto un piatto e lo finisco beh a parte che avevo fatto tutte cose che mi piacevano quindi era però a volte anche quando faccio tutte cose che mi piacciono faccio fatica a mangiare però sono stata molto brava molto orgogliosa di me e anche se alla fine non ti ho detto tante cose però ho anche paura di spoilerarle quindi diciamo che ecco la mia idea iniziale è quella poi non so se mi perderò per strada e non metterò tutti i video di Halloween o non lo so che cavolo potrebbe succedere comunque uno l'ho già fatto quindi uno sicuro teme Halloween ce l'abbiamo lo portiamo a casa anche se devo farci il voice over e la presentazione perché voglio comunque curare ancora di più i video e quindi ci sto mettendo tanto ci metto tanto a farne uno però deve essere bello come dico io anche se non sono mai soddisfatta al 100% perché pretendo tanto da me quindi voglio che sia tutto perfetto e ovviamente tutto perfetto non riesco mai ad ottenerlo anche perché a volte ho idee che superano i limiti delle mie capacità e quindi però ci accontentiamo io spero che tu possa gradire tutto il mio lavoro io ci metto tutto il mio impegno e se hai mangiato anche tu fammelo sapere guardando il video fammelo sapere con un commento lasciami un like e niente ti auguro buonanotte ciao creatura